Hai sfatato due miti che erano belli grossi nel giro di pochi giorni. Il primo mondiale e questo record italiano che avevi già sfiorato. Sì esatto, l'obiettivo l'ho accentrato, ovvero di qualificarmi sia nei 200 che nei 400 e anche il secondo obiettivo era quello di fare questo record italiano che c'era tanto vicina ma che non c'era più riuscita da due anni, quindi sono contenta di tutto questo campionato sia dei 400 ma anche di questi 200 che ho fatto il record italiano. Parliamo anche di un altro 200, ieri hai fatto un gran 200 rana e la frazione di oggi a rana forse è stata veramente il punto focale di questo record italiano. Sì esatto, nei misti sono cresciuta molto nel delpino ma soprattutto nella rana perché in questi ultimi mesi l'ho curata molto perché sapevo che è una frazione molto importante a livello dei misti e ieri ho voluto provare a fare questa gara alternativa per non fare sempre solo i 200 e i 400.